Con lo scavo di quest'anno, oltre a cercare di verificare l'estensione delle terme e il contesto in cui erano inserite, abbiamo proseguito verso nord per passare allo scavo dell'intero isolato quarto, che era lo scopo essenziale del progetto che stiamo restaurando. Ci aspettavamo di trovare una casa come quelle che si trovano negli altri isolati del quartiere. In realtà abbiamo avuto ancora una volta una sorpresa perché, anche se ancora il sistema è in corso di scavo, sembra che ci troviamo di fronte a qualcosa di ben diverso rispetto a una casa di abitazione. Infatti sembra che siamo di fronte a un sistema di vasche, in diversi casi comunicanti tra loro, che devono essere in qualche modo connesse con l'edificio termale. Insomma, l'impressione che dovrà essere verificata proseguendo lo scavo è che ci troviamo di fronte a un complesso imponente che doveva forse essere a servizio dell'intero quartiere e quindi non a un impianto privato come avevamo pensato inizialmente, ma qualcosa probabilmente di più importante, forse anche con funzioni pubbliche, collettive. L'altro aspetto interessante che stiamo indagando è quello del momento successivo all'abbandono di tutto questo complesso, quando esso smette di funzionare evidentemente come tale, ma viene rioccupato con altre funzioni. In primo luogo abbiamo alcune tombe, qualcuna delle quali è già stata scavata, che si impostano vicino all'edificio termale o addirittura all'interno delle vasche che costituiscono il complesso della terrazza superiore. In secondo luogo, questo l'avevamo visto già nel 2014, abbiamo un uso di tipo rurale, cioè probabilmente in quest'area si impianta una sorta di fattoria nella quale si svolgevano attività proprio connesse con l'uso agricolo. Quindi abbiamo trovato moltissime ossa di animali, di grandi animali e quindi sospettiamo che esse siano legate o attività di macellazione o attività di lavorazione per esempio delle pelli, di trasformazione degli ossi, degli animali in oggetti che venivano utilizzati per la vita quotidiana. Insomma, un impianto artigianale che trasforma completamente evidentemente la funzione dell'area, ma che ci dice che la vita comunque continua, si evolve, si trasforma come sempre avviene.